Con il numero 1 Roden, Giampaolo Vinnucci, il 2 Ronaldo LP, Antonio Improda, il 3 Rombo di Cannone, Vincenzo D'Alessandro Junior, il 4 Saba del Rocco, Enrico Bellei che in chiusura di gioco è diventata la netta favorita della corsa, con il 5 Patrick S, Gasparillo Verde, con il 6 Nasti Riff, Davide Di Stefano. 200 metri allo stacco della macchina con Nasti Riff che come al solito si avvia con cautela, a rete invece gli altri 5, con Saba del Rocco all'esterno che sbaglia nel tentativo di portarsi al comando, allora Roden cerca di rientrare al Rombo di Cannone, insiste però Rombo di Cannone, ha il via libera da Roden dopo 200 metri scarsi di gara, il lancio volante in 13 e 2 per Rombo di Cannone, a precedere Roden, quindi Ronaldo LP, Patrick S all'esterno, Saba del Rocco rimessa in quarta posizione alla corda, Nasti Riff che inizia subito la sua decisa progressione esterna, aggirando Patrick S per puntare in avanti dopo mezzo giro. Buon ritmo da parte di Rombo di Cannone, il mezzo giro iniziale sul piede del 1 e 12, ma Nasti Riff insiste a largo e cerca di prendere diretto contatto con il battistrada che ha volato i primi 600 metri in 43 e poco più, ma Nasti Riff insiste a largo, punta sul Rombo di Cannone, lo impegna, avendo all'interno Roden, il mezzo miglio iniziale va via in 59 secchi, Rombo di Cannone, Roden che è fuori Nasti Riff, Ronaldo LP con a largo Patrick S in coda, Saba del Rocco. Gruppetto compatto, nonostante che il primo chilometro venga trottato in 1.13.3, con Rombo di Cannone leader su Roden all'esterno, sempre Nasti Riff con i scia Patrick S, ha preso la via in largo anche Saba del Rocco. Lungo la corda rimane, ma senza spazio Ronaldo LP si lancia in terza ruota Saba del Rocco, quando siamo a metà dell'ultima curva prova a recuperare dalla retroguardia, mentre Rombo di Cannone si mantiene in vantaggio su Roden e Ronaldo LP che emergono nella sua scia. Rombo di Cannone leader anche al paletto di 200 finali, ma deve guardarsi da Roden e soprattutto da Saba del Rocco che prova a ritornare aggressiva, non progredisce Ronaldo LP. Rombo di Cannone alla corda, attaccato da Roden e Saba del Rocco, lotta in 3, Rombo di Cannone all'interno, Roden e Saba del Rocco a largo. Nel finale Rombo di Cannone che si salva, vince con merito, su Saba del Rocco che stampa Roden per il posto dolore, ma ha fatto un vero numero a sensazione, Saba del Rocco ha sbagliato allo stacco quando cercava di portarsi al comando, si è rimessa abbastanza prontamente, però è rimasta in coda al drappello, si è riproposta all'attacco in terza ruota ai 350 finali ed è stata ancora capace di venire forte a largo per battere Roden senza tuttavia poter impensierire Rombo di Cannone che comunque ha vinto con pieno merito perché sul mio cronometro c'è 1'57,5 che significa media intorno all'1'13,3-13,4 per Rombo di Cannone con Vincenzo D'Alessandro Junior il numero 3 al primo posto davanti al 4 di Saba del Rocco all'1 di Roden. Grazie 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 Grazie